Dopo tanti campioni e giocatori esperti, ecco una grande promessa, il sesto acquisto della Prisma Taranto Volley è un colpo in prospettiva. Si tratta di Fabrizio Gironi, giovane e interessante, è stato voluto fortemente dal coach Vincenzo Di Pinto. Classe 2000 ha già avuto modo di disputare gli ultimi due campionati nella massima serie con la maglia di Milano. Il nuovo schiacciatore della Prisma Taranto, della presidente Tonio Bongiovanni e di Elisabetta Zelatore, due metri di altezza, è cresciuto nelle fila del Segrate, dove è stato eletto MVP dello scudetto Under-18. Subito l'opportunità per l'atleta di V-mercate di calcare palcoscenici importanti come quello della Superlega, nelle fila dell'Allianz Milano. Nella sua prima esperienza importante, in A1 è riuscito a mettere in mostra le sue potenzialità. Adesso con Taranto vuole continuare il suo percorso di crescita con l'ambizione di spiccare il volo. Mi è piaciuta molto la trasparenza del progetto, dichiara, si sta creando una squadra ambiziosa e che punta a fare bene nella prossima stagione. Per me la piazza di Taranto rappresenterà uno scoglio importante per la mia crescita personale. La serietà e la programmazione della società mi ha colpito subito. È stato uno degli aspetti che mi ha convinto a sposare questa nuova esperienza. Lo schiacciatore arriva in un gruppo composto da diversi giocatori importanti. Sarà uno simolo in più, sottolinea, per poter giocare con dei grandissimi campioni. Rappresenteranno sicuramente il valore aggiunto di questa squadra. Conosco bene a Letti avendoci già giocato insieme nell'ultima stagione a Milano. Non vedo l'ora di presentarmi ai miei nuovi compagni di squadra.